Mi piacciono i viaggi in bici, cioè in realtà ne avevo fatto già un altro in bici, in bicicletta, quella che usano, quelli che muovono le gambe. Pensa che noi abbiamo due ruote e due gambe. Comunque ragazzi a me che piove sinceramente non me ne frega niente, basta che rientriamo prima che sia notte che io ho paura del buio. Ero sicura che sarebbe stata un'esperienza strepitosa, indimenticabile. Stiamo facendo un viaggio in bicicletta per la regione Emilia-Romagna. È molto bello perché all'interno di questo gruppo non ci sono solo delle biciclette, anzi ce ne sono due. E per il resto ci sono due tandem e una handbike. Il re di Gondor, il re degli Elifi... Ah eh, gli riesco a scrivere anche queste. Cavalco, ok. Sarà lunga questa salita. Il nuovo sport olimpico. Questo gruppo è bellissimo, è una vacanza spettacolare, cioè siamo proprio un agglomerato unico. È proprio bello. Sei sulla luna, cioè... Andiamo a pedale a Emilia. Teo, allora che facciamo in questi giorni? A parte bere. Dove andiamo? Magino che un viaggio in bici pedaleremo. Pedaleremo. Vieni, è ora che sono arrivati gli ultimi, noi che ci siamo riposati possiamo partire. Vieni, è ora che ci siamo riposati. Vieni, è ora che ci siamo riposati.